Buonasera a tutti e a tutte, grazie mille di essere qui. Io mi chiamo Silvia Ardoli e lavoro in Valore D dove mi occupo di comunicazione ed eventi. Valore D è un'associazione di aziende che si occupa da 15 anni di valorizzare le diversità all'interno del mondo aziendale. Per diversità intendiamo quella di genere, quindi genitorialità, maternità, pay gap, differenza salariale e tutto quello che concerne il gender gap. Diversità di generazioni, perché adesso in azienda convivono fino a quattro diverse generazioni, quindi con leve motivazionali e spirito e approccio al lavoro diverso. Di disabilità, quindi per un'inclusione della disabilità in azienda, orientamento affettivo ed entità di genere e multiculturalità. Perché oggi come oggi in azienda per poter, in un mondo sempre più multiculturale, per poter valorizzare la multiculturalità va comunque gestita e valorizzata. Questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la formazione, quindi eroghiamo formazione nelle aziende, attraverso delle ricerche o degli scambi di buone prassi e attraverso delle campagne di comunicazione rivolte sia alle aziende ma anche a tutta la popolazione. Oggi siamo qui per questo workshop, poi lascerò la parola a Laura De Chiara, esperta in benessere organizzativo, ma prima di questo volevo darvi anche appuntamento domani alle 16.20, dove presenteremo un podcast di Valore D che si chiama Scomodiamoci. Scomodiamoci è un podcast in collaborazione con Carolina De Castiglioni, dove parleremo della violenza di genere, ma partendo dalla base della piramide della violenza di genere. Per farlo avremo con noi delle esperte e degli esperti, ma vogliamo anche il dialogo con degli uomini, quindi avremo insieme a noi, adesso sicuramente qualche nome me lo dimenticherò, avremo Fabio Caressa, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, il pugile Mattia Faraoni, il tiktoker, no youtuber, il masseo, Claudio Colica e il content creator Gianluca Torre. Quindi anche per questo vi do appuntamento domani alle 16.20 in sala plenaria. Quindi adesso per parlare insieme di come riconoscere una molestia e come affrontarla, vi lascio in mano a Laura De Chiara. Grazie mille. Grazie Silvia. Io sto provando lo slider per vedere come funziona. Buon pomeriggio. Io sono Laura De Chiara, sono una coach e mi occupo di benessere organizzativo, cioè mi occupo all'interno delle aziende di tutte quelle tematiche che tendenzialmente dovrebbero costruire degli ambienti di lavoro inclusivi, ma soprattutto dove le persone riescono a esprimere il proprio talento. Quindi questo significa esperti di benessere organizzativo. Alle spalle io ho più di vent'anni d'azienda, quindi non vengo dal mondo, se volete, della formazione, ma vengo proprio dal mondo del business. Sono stata per più di vent'anni in azienda in ruoli economici. Io sono una persona che vengo da una formazione economica. Sono stata leader, ho lavorato in tanti team e mi rendo conto che ci sono tante cose che ho imparato sulla mia pelle che poi ho avuto voglia di raccontare. Quindi io sono esperta in leadership, esperta in sviluppo dei talenti, mi occupo soprattutto di leadership al femminile e tendenzialmente per quello che riguarda le molestie sono stata ovviamente oggetto di molestie, come tutte noi, lo vedremo, e sono stata anche una molestatrice perché molte volte i nostri comportamenti molesti noi non li conosciamo. Sembra di stare a casa mia dove sbattono le porte continuamente, cioè mi sembra un ambiente familiare, sento la familiarità che sono tra mio figlio tra qualche momento. Allora, la mia domanda però per voi, prima di passare al tema, è come mai siete qui? Che cosa vi piacerebbe sapere? Questo è un campo molto ampio. Il campo delle molestie è un campo che va dalla cattiva leadership, quindi dalla inconsapevole gestione delle relazioni, alle molestie sessuali, lo vedremo, è proprio lo specifico tema di oggi, se volete al bullismo, al mobbing. Che cosa vi ha spinto a venire qui oggi? Cioè vorreste uscire da qui con che cosa? Una cosa che vi piacerebbe portare a casa? Come affrontarle? Una risposta pronta? Va bene. Una risposta pronta? Come reagire? A me personalmente, visto anche il tema, visto che siamo nel contenitore anche un po' del mobilitarci, prendere in mano il potere delle nostre carriere, a me piacerebbe comunque in qualche modo riuscire anche a trasferirvi un po' quelli che sono dei ragionamenti che ci sono dietro le molestie, quali sono i vostri diritti, i nostri diritti, e su che cosa oggi la legislazione si è concentrata. Perché? Perché quando avete visto il titolo, non è una battuta, la forza di questi temi sta in un fenomeno, si chiama fenomeno di invisibilizzazione. Cioè questi temi, le molestie, le violenze sulle donne, le violenze di genere, le violenze domestiche, soffrono di questo fenomeno che lo rende invisibile. Cioè viene in qualche modo derubricato con le battute, con le opinioni, con una sorta di soggettività. Questo è il campo del, secondo me non è, secondo me, ma no, ma hai visto lei, ma no, ma sì, ma se le cerca, sì, però. C'è tutto il campo, ecco, sappiate che passare da una visione soggettiva a una visione oggettiva su questi fenomeni è fondamentale. Questo non è un campo della soggettività. Allora, quando parliamo di molestie, vi devo dire che si tratta di un fenomeno tutt'altro che piccolo, perché una persona su tre subisce molestie nell'arco della sua vita professionale. Questa ricerca, che peraltro ho scelto perché è stata fatta in collaborazione con la Cattolica, è un'università, scusate, è una ricerca che ha coinvolto più di 600 direttori del personale e responsabili organizzativi, a cui è stato chiesto, nella tua azienda ti è mai capitato di sentire che ci sono in maniera diretta o indiretta dei fenomeni di molestie? Ecco, più del 30% ha risposto in maniera affermativa. Quindi stiamo parlando di un fenomeno importante, attuale, che coinvolge grandi numeri. Però di questi numeri non si tratta di situazioni occasionali, ma si tratta di fenomeni ricorrenti. Cioè le persone che subiscono molestie le subiscono ripetutamente. Quindi sono più fenomeni, più situazioni, quindi non sono one shot. Nel 65% dei casi avvengono con dei testimoni e qui c'è già un dato interessante. Ma quei testimoni hanno dei diritti, hanno dei doveri, che fanno? Anche questo oggi lo guardiamo un secondo. E poi il 40% delle vittime del fenomeno delle molestie in generale nei luoghi di lavoro sono donne, 95% se parliamo di molestie sessuali, e un restante, 23%, sono giovani. Che cosa vi dice questo dato? 40% e 23% donne, giovani. Poi se andiamo ancora a vedere, per completare il 100%, troviamo ovviamente persone di razza diversa dall'etnia italiana, poi troviamo persone con disabilità, poi troviamo persone con orientamenti sessuali differenti. Quindi, chi sono le persone che hanno soprattutto, no? Che sono soprattutto oggetto di molestie? Tutte le categorie, in qualche modo, in minoranza, che rappresentano una minoranza all'interno della nostra società. Questo vi deve già, un attimo, mettere in una condizione di riflettere su che ruolo hanno le donne all'interno dei contesti economici. Sono una minoranza psicologica. Cioè, vengono percepite come una minoranza. Allora, che cos'è la molestia? La molestia è un comportamento indesiderato che viene comunque attivato nei confronti di una persona e questa persona viene sfavorita, quindi, da caratteristiche che non riguardano le sue capacità, il suo talento. Quindi, che cosa significa? Che siamo al lavoro e magari divento oggetto di attenzione in termini di comportamenti. A me vengono rivoltati dei comportamenti, divento in qualche modo vittima di comportamenti che mi mettono in una condizione di peggior favore. Alterano un equilibrio. Perché è importante? Innanzitutto, vi vorrei chiarire la differenza tra bullismo e molestie. Ce l'avete questa differenza? Perché spesso sono confusi. Si parla di un motivo per allontanare le persone dalle tematiche e renderle confuse. Invece voi dovete cominciare a appropriarvi di una serie di terminologie. Molestia e bullismo. Sapete la differenza? Allora, il bullismo è un comportamento indesiderato, inappropriato che viene rivolto nei confronti tuoi senza giustificato motivo. Ok? Cioè, mi sei antipatica. Per cui io faccio delle cose. Ti comincio a diffondere pettegolezzi su di te oppure posso in qualche modo metterti bastoni fra le ruote oppure ti do dei carichi di lavoro eccessivi rispetto a lei il bullismo, che può essere orizzontale, verticale, dal basso verso l'alto il bullismo è apparentemente ingiustificato. Cioè, ti ho preso di mira per qualche motivo. La molestia è quando io prendo di mira lei per qualche motivo legato a sesso, orientamento sessuale, religione, razza, disabilità. Che sono le categorie protette dalle successive leggi di lavoro. Cioè, tutte quelle categorie che col tempo sono state in qualche modo il legislatore ogni tanto ha dovuto tirare fuori delle leggi per dire dobbiamo proteggere ah, l'età, scusatemi. Dobbiamo proteggere le persone che sono troppo giovani. Dobbiamo proteggere le donne perché sono discriminate. Dobbiamo proteggere per razza. Cioè, quindi per esempio il mio pettegolezzo diventa un pettegolezzo sull'orientamento sessuale. e allora quella è molestia. Il mio dare il nomignolo magari è un nomignolo legato alla tua razza e allora è molestia. Un nomignolo banale un nomignolo legato alla razza. Bullismo, molestia. Cioè, tutte quelle in qualche modo si passa da un atteggiamento ingiustificato a un atteggiamento provocato dall'appartenenza a una categoria. di una di quelle categorie che sono state comunque normate dal diritto antidiscriminatorio. Sono stata chiara? Ok. Perché è importante? Perché le molestie sessuali sono un di cui delle molestie. Quindi siamo nell'ambito del diritto antidiscriminatorio. e perché è importante che voi lo sappiate? Sapete perché? Perché ci fanno vi fanno entrare o partecipare o stare nel mondo del lavoro pensando che i vostri diritti il mondo del lavoro è un mondo che per antonomasia non deve essere equo. No? Deve essere assolutamente in qualche modo deve distribuire meriti in maniera non numerica ma a seconda del merito. Giusto? Su questo siamo tutti d'accordo. Però rispetto all'equilibrio individuale ovviamente noi abbiamo dei doveri che sono i doveri di svolgere la nostra prestazione senza negligenze c'è il dovere dell'obbedienza intesa come prendere quello che ci viene chiesto e trasformarlo in compiti abbiamo il dovere del rispetto degli ambienti di lavoro eccetera eccetera ma i nostri diritti non sono solo diritti patrimoniali o sindacali i diritti che ci dà la legge e il diritto del lavoro sono anche diritti personali dentro questi diritti personali c'è la dignità la sicurezza la crescita sono proprio sanciti per legge cioè la sicurezza è di poter svolgere la nostra prestazione di lavoro in ambienti sicuri e privi di molestie e tutte quelle situazioni che renderebbero impossibile la nostra prestazione fa parte dei nostri diritti esattamente come il diritto alla retribuzione allora chiaro che questa vedete queste sono in America ovviamente l'etnia è un primo è la prima area di discriminazione in Italia dove non c'è tanta varietà da un punto di vista di presenze di etnie una delle più importanti è proprio quella sessuale per genere l'altra cosa per entrare in questo campo per darvi delle informazioni è che quando si parla di molestie non dovete pensare soltanto a chi le subisce ma sul palcoscenico per capire il fenomeno c'è chi la compie ovviamente ma anche chi ne è osservatore o osservatrice quindi stiamo parlando di tre soggetti perché gli impatti delle molestie non ricadono solo sulla vittima che ne ha ovviamente gli impatti più gravi ma ricadono anche su chi assiste alle molestie un clima di lavoro quando qualcuno di noi è all'interno di ambienti dove notiamo dei comportamenti di peggior favore per una persona noi non ne risultiamo neutri quegli ambienti diventano tossici anche per noi che non la stiamo subendo in quel momento quindi ha un effetto di contaminare è proprio un virus diventa una sorta di virus i costi pensate che il costo delle violenze è pari al PIL del Canada se noi volessimo definirlo ha dei costi altissimi come sono questi costi assenteismo quindi giornate di lavoro perdita di produttività legata al fatto che ovviamente le persone che subiscono molestie le donne soprattutto hanno una capacità di esprimere la loro motivazione e la loro prestazione in maniera completamente falsata si trasformano in spese legate proprio alle cure mediche quindi vedete che l'impatto delle molestie non è banale sulla nostra economia in Inghilterra addirittura tutti i problemi legati allo stress e lavoro correlato questo è il nome con cui vengono classificati l'avete sentito spesso parlare stress e lavoro correlato ecco la maggior parte di questi temi dello stress e lavoro correlato sono legati a molestie ora in Gran Bretagna il budget per lo stress e lavoro correlato è arrivato a 18 billion di sterline cioè il bilancio della difesa sono dei costi altissimi ma più che altro dobbiamo pensare all'impatto allora perché è rilevante questo tema perché nessuno ci racconta che nell'ambiente di lavoro c'è ancora la presenza di questi fenomeni che allontanano e scoraggiano le donne dalla una piena partecipazione alla vita politica economica della nostra impresa molte delle donne che subiscono molestie col tempo smettono di lavorare quindi questi sono dei fenomeni che purtroppo hanno un impatto allora se da un lato dobbiamo aumentare la nostra partecipazione dall'altro dobbiamo rimuovere tutte quelle barriere che impediscono questa piena partecipazione alla vita economica ci viene in aiuto una bellissima convenzione la 190 la convenzione oil l'Italia grazie al ministro Orlando l'ha firmata come secondo paese europeo è stato il secondo paese europeo a ratificarla quindi molto presto nel 2019 e qui chiama il latino direbbe nomen omen perché con questa convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro si è finalmente detto che gli ambienti di lavoro devono essere privi di molestie e di violenze allora voi vi direte che effetto fa avere perché una convenzione è così importante la convenzione è importante perché è la prima volta che a livello internazionale a livello internazionale viene riconosciuto il diritto di stare in ambienti di lavoro privi di molestie e violenze quindi è diventato un vero diritto da prendere a piene mani è una volta che viene ratificato se uno stato lo ratifica deve diventare legge in accordo con i sindacati e tutti gli organismi che fanno parte diciamo del mondo economico per cui è entrato nei nostri diritti fa parte proprio di quei diritti che poi noi possiamo reclamare il diritto a stare in ambienti liberi da violenze e da molestie però diciamo che diciamo che oggi il tema è un po' imbuto andiamo in quella che è considerata a parer mio è da considerare la più grande discriminazione la peggiore la peggiore in assoluto ah grazie cara oh no quello è mio ah no santa pace chi mette la panna montata nel caffè mi porteresti un caffè normale grazie non sono un assistente architetto sono sì ma sono anche una persona collaborativa quindi sarò molto felice di portarle un altro caffè sì fantastico grazie al nuovo presidente il mercato è invaso dall'estero arriva a ciaio a prezzi stracciati siamo costretti a licenziare miniere che chiudono a destra e a manca ma questa cosa c'entra con Erl che mette le mani ad assasciare hai capito o no quello che ho detto voi trovate posti di lavoro dove non ce ne sono quei ragazzi non vi sono amici ma anch'io non sono vostro amico siete fuori posto qui e lo sapete benissimo ma vedo che non mi segui perciò la metto in un altro modo voi qui dovete lavorare sodo e tenere la bocca chiusa fare come gli uomini grazie Polponi sono due settimane che mi metti la mano sul culo un ascensore davanti a tutti mi spieghi che bisogno c'era? senti tesoro mio duecento domande per due posti di lavoro e secondo te ripamonti uno le dava un frocio voi due allora? ma noi che? secondo te con cinquanta candidati per un cantiere ripamonti prendeva una donna? ecco appunto qua dentro tutti dicono le cazzate per tenersi in lavoro mamma io me lo devo tenere eh io devo arrivare alla firma senza girarci troppo intorno lei dice che tu l'hai molestata sessualmente io avrei molestato lei sessualmente? perché? come lo definiresti? Phil mi è saltata addosso nel suo ufficio lei ti è saltata addosso tu stai negando è tipico io non l'ho molestata Phil chiaro è stata lei a molestare me ho difficoltà a crederti Tom una donna che molesta un uomo che cosa sei venuto a fare eh? che cosa vuoi? sono qui come tuo amico mio amico è un cazzo Phil tu non sei mio amico sollevare un polverone non conviene a nessuno anche merdi ti ha dello stesso avviso possiamo risolvere la cosa con discrezione e tra di noi voglio sapere soltanto se posso citarla in giudizio per molestie sessuali certo che non è uno scherzo convincere una giuria che lei era sola in una stanza un misty nager né un messico e le ha detto di no le molestie sessuali non hanno niente a che vedere col sesso sono solo un'espressione di potere se sporge denuncia nessuna azienda vorrà più assumerlo nel suo campo se non sporge denuncia la seppelliranno a Austin se denuncia farà notizia se non sarà un'ignobile calunnia se denuncia nessuno le crederà se invece non denuncia sua moglie non le crederà e comunque la sua vita si trasformerà in un inferno per i prossimi tre anni finché la causa non andrà in giudizio e per questo privilegio lei dovrà sborsare un minimo di 100.000 dollari buongiorno signora Matti si accomodi spero lei abbia avuto modo di riflettere il dottor Torri ha fatto qualcosa di straordinario ha comminto il presidente del Baratta a ritirare la denuncia contro di lei anche lei però deve fare la sua parte io non posso permettere che il dottor Torri si esponga così generosamente senza una contropartita questa è una lettera che lei può firmare in cui chiede scusa al dottor Torri per aver cercato di infangare la sua reputazione quella del Baratta dichiara di essersi inventata tutto e che vuole tornare a lavorare abbiamo perso l'affare sul lungomare del West Side perché il tuo consulente legale la tua ultima modella trattino avvocato si è dimenticata di depositare lo studio sull'impatto ambientale del progetto la conoscenza della legge non è il punto di forza di Amber ecco perché l'ho licenziata no io l'ho licenziata così come ho licenziato Debbie laureata all'università di Torabora e stesi che si è laureata alla online university voglio qualcuno proveniente da Yale o Columbo o dagli stati della terraferma donne con quel tipo di intelligenza spesso mi trovano superficiale allora assumi un uomo non essere assurdo perché non verrebbe a letto con te bene è un curriculum stupefacente Polly congratulazioni per il bebè quale bebè? allora perché questa carrellata di questa carrellata di film perché il cinema insegna ci sono tantissimi film che hanno raccontato queste storie la cosa importante che ciascuna comincia a riflettere ciascuna di noi comincia a riflettere su quelli che sono tutti i messaggi culturali che ci sono arrivati nel tempo e che ci fanno pensare che alcune situazioni siano in qualche modo ineluttabili è scontato no? è scontato che magari qualcuno ci dica che siamo troppo abbenenti oppure troppo così oppure che troppo magari troppo disponibili o poco disponibili che qualcuno faccia continuamente commenti sul modo in cui magari ci presentiamo sulle domande che subiamo noi dobbiamo diventare un po' più consapevoli che il nostro grado di tolleranza è troppo rispetto ai nostri diritti questo grado di tolleranza però ce l'ha fatta la cultura ci ha reso così la nostra cultura oggi purtroppo io aprirò soltanto delle piccole piccole parentesi molestie di genere molestie sessuali guardate un milione e quattrocento mila le donne in Italia che hanno subito molestie stiamo parlando del 9% della popolazione nella loro vita 9% 9% è tantissimo le donne fumatrici sono il 18% ok? stiamo parlando di numeri enormi 9% verso quello che mi sconvolge di più quello 1% che denunciano e sapete perché non denunciamo non denunciamo perché non abbiamo fiducia non denunciamo perché abbiamo paura che qualcuno in qualche modo ci responsabilizzi per quello che è successo si chiamano fenomeni di vittimizzazione secondaria e oppure abbiamo paura di che cosa? Abbiamo paura di renderci conto che nulla cambierà cioè in qualche modo noi normalizziamo una serie di attenzioni una serie di comportamenti diamo per scontato che nel mondo del lavoro dovremo lottare farci valere più del necessario subire questo è l'atteggiamento mentale su cui noi dobbiamo fare delle riflessioni e cambiare perché al di là di questo ve lo posso dire tranquillamente attraverso delle immagini l'importante è cominciare a parlarne vi dovete documentare capire conoscere il tema è un tema di linguaggio è un tema di comportamento ed è un tema di pregiudizi le molestie sono frutto di queste aree tematiche un tema di linguaggio lo sappiamo però cioè io ho usato delle immagini free però le usate free sapete perché non perché sia tirchia anche ma le usate free perché ve la deve dire lunga sul fatto che se addirittura una banca dati una banca dati di foto crea delle immagini sulle molestie vi fa capire quanto sono diffuse il 30% delle donne viene toccata all'interno dei luoghi di lavoro il 18% viene è oggetto di sguardi di commenti di parole il 22% continua ad avere attenzioni mediatiche quindi messaggi fotografie senza la sua senza la sua autorizzazione ok la violazione della privacy ok ne ho messo anche qualcuna un po' di gender balance però diciamo che tendenzialmente tendenzialmente questo è il mondo del lavoro dove noi effettivamente subiamo tutta una serie di situazioni anche quelle magari del pettegolezzo della diffusione di informazioni riservate pensando di non avere dei diritti perché questo perché comunque alla base c'è una cultura che noi dobbiamo andare in qualche modo a riorganizzare però quando parliamo adesso ritorniamo anche al discorso del linguaggio un attimo soltanto però se pensiamo ai pregiudizi adesso vi volevo fare un piccolo test come siamo messi noi a pregiudizi a parte appunto la conoscenza dei pregiudizi di genere che è qualcosa su cui comunque dovremmo fare amicizia perché ci circondano e perché anche noi ne siamo in qualche modo vittima facciamo un gioco velocissimo non mi dovete rispondere però immaginate di contare sulla mano tenete conto sulla mano di tutte le volte che il post-it che adesso vi faccio vedere voi lo mettete nella sezione l'ho pensato almeno una volta quindi tenete sulla mano il conteggio per esempio se un cliente è sensibile al fascino femminile è normale mandare una donna come riferimento aziendale non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta è senso comune pensare che se in una riunione c'è una maggioranza maschile ti metti una camisetta attillata non ti lamentare se poi non ti guardano ad altezza occhi non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta Sandra si è sposata da poco con Elena figurati niente in contrario ma almeno poteva non dirlo a quel cliente si sa che è tradizionalista nessuno le aveva chiesto niente non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta nei casi di outing no? chi ha famiglia è meno disponibile sul lavoro non si possono gestire alla stessa maniera entrambe le cose bisogna fare delle scelte non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta la storia ci dice che gli scienziati sono per la maggior parte uomini è una predisposizione naturale non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta gli uomini sanno guidare meglio delle donne e le donne sono più brave nella gestione dei figli non lo penserei mai l'ho pensato almeno una volta allora quante ne avete sulla mano? contate molto diciamo allora che cosa serve questo post-it? perché i nostri pensieri quello che noi le nostre opinioni quello che magari naturalmente ci viene da pensare attenzione perché sono soltanto frutto di condizionamenti la maggior parte di questi pensieri non ci appartengono veramente li lasciamo pigramente depositarsi nelle nostre azioni o nei nostri pensieri cioè se qualcuno li dice noi diciamo eh beh sì è vero dai la camicetta attillata dai sì poteva evitare cioè tendiamo a non sollevarci non prendere le distanze da tutta una serie di osservazioni banali che però poi costruiscono ricordatevi che dietro il comportamento c'è un pensiero fatemi fare la coach tre secondi quando vogliamo cambiare i comportamenti dobbiamo cambiare il pensiero che c'è dietro perché i comportamenti sono automatici rispetto a certi pensieri allora come facciamo a cambiare? cambiamo grazie al fatto che ci facciamo forti di una bellissima legge io oggi ho l'obiettivo di riuscire in pochissimo tempo a rendervi capaci di distinguere quando un comportamento è un comportamento inopportuno e quando è una molestia sessuale ma ho la fortuna di avere alle mie spalle una delle migliori leggi che siano state mai fatte ed è il codice delle pari opportunità la legge 198 del 2006 che all'articolo 26 secondo comma descrive in maniera chiarissima cos'è una molestia sessuale e ci dà la mappa per orientarci com'è questa mappa? quei comportamenti indesiderati indesiderati significa che non mi piacciono non li ho scelti indipendentemente da come ho scelto di vestirmi che ore è per quando vado in giro ma è con ogni caso sono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale a connotazione sessuale significa che invadono la mia sfera privata una connotazione sessuale significa che riguardano non il genere femminile riguardano proprio un riferimento alla mia vita sessuale privata a connotazione sessuale espressi in forma fisica verbale non verbale che hanno lo scopo o l'effetto lo scopo o l'effetto cioè possono anche non essere intenzionali chiaro di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio ostile degradante umiliante e offensivo quindi indesiderato che non è richiesto a connotazione sessuale espresso in forma fisica verbale o non verbale tale da violare la dignità per cui non rileva più la cosa importante che ha fatto il legislatore in questo caso è che ha trasferito non me lo devi più dimostrare basta come l'ho percepito basta la mia percezione di quell'attenzione di quel comportamento non rileva lo scopo e l'altra cosa fondamentale che ho veramente bisogno di sottolinearvi perché non ve lo diranno in molti è che per la prima volta e definitivamente il legislatore tutela il clima come diritto del lavoratore il clima di lavoro è fondamentale per le nostre prestazioni stare in un clima di lavoro dove c'è un leader che impazza sta comunque qualche dopo mi dite il nome ci penso io crea un clima intimidatorio stile degradante e umiliante noi dobbiamo proteggere per noi e per le nostre colleghe e per i nostri colleghi il clima allora facciamo un esempio per vedere se mi avete capito siamo a una festa e Maria sta ballando Giovanni comincia a ballare a darle fastidio più volte lui lo fa più volte Maria è oggetto delle sue attenzioni e le sbatte addosso così a questa convention aziendale Maria ogni volta si scosta infastidita ma Giovanni continua a un certo punto Maria si innervosisce e si va a sedere è una molestia sessuale o no? sì? sì e perché? ditemi un po' i motivi guardate però la mappa datemi datemi la vostra mappa indesiderato perché indesiderato? lei ha mostrato vi sto dicendo queste cose perché dentro queste cose c'è la tua domanda come faccio a reagire indesiderato significa dovete sempre esprimere il distacco da quella situazione cioè deve essere chiaro che quella situazione è indesiderata da voi quindi se una persona vi mette la mano sulla spalla perché vi deve in qualche modo venire vicino a vedere un documento scusa per favore ti spiace se dovete esprimere il dissenso indesiderato poi che altre che caratteristiche ha questo esempio che vi ho fatto? ha connotazione sessuale? a tocca la sfera privata ragazzi il corpo è sempre connotazione sessuale sempre chiaro? non c'è da poter distinguere poi espresso in forma fisica tale da violare la dignità è una molestia sessuale ok? quando trovate questi elementi e soprattutto ricordatevi deve essere un contesto lavorativo però qual è la gioia dell'esultanza della ILO? la ILO la 190 ha definito come contesto lavorativo qualunque situazione che ha una affinità con il lavoro cioè la motivazione alla base deve essere lavorativa se io vengo invitata a cena da un datore di lavoro fuori orario siccome la mia relazione con lui nasce in virtù del lavoro quello è un contesto lavorativo se io prendo un taxi per andare al lavoro o andare a un appuntamento quello è un contesto lavorativo la convenzione ILO ha questo di grande ha liberato sia le forme contrattuali quindi possono essere consulenti anche le persone non ancora assunte perché la maggior parte delle molestie avvengono durante i colloqui di lavoro e qui mi giro e me ne vado intimidatorio stile degradante umiliante offensivo scusate c'è un mio carissimo amico che è un direttore del del char e quindi guardavo lo prendevo un po' in giro cosa c'è dietro questo vi è chiaro la mappa per definire quando avete dei dubbi avete qualche caso da buttare sul tavolo che lo snoccioliamo velocemente insieme qualcosa che vi rende un dubbio che ti assolutamente contesto lavorativo la tua relazione con lui è nata in virtù di un business affair quindi è contesto lavorativo persino l'autobus il parcheggio cioè anche i luoghi dove si può sono tutti considerati ormai grazie a questo ampliamento cioè proprio zero tolleranza la convenzione ILO che è legge chiede zero tolleranza quindi assolutamente sì un fornitore un cliente appunto una persona con una prestazione occasionale che ti genera una molestia oppure che ne subisce sì quali sono le radici del fenomeno ve l'ha detto l'avvocatessa di cui ho messo di cui ho messo il filmato vi ricordate ho messo un pezzettino vi dice dietro c'è un'affermazione di potere cioè dietro il fenomeno delle radici delle molestie di genere delle molestie sessuali sono le radici che parlano della nostra società e della difformità della distribuzione dei poteri avete ben chiaro cosa significa quando si parla della supremazia maschile sulla determinazione della nostra vita cioè vi è chiaro il concetto il concetto è che se se per millenni l'uomo è stata la specie dominante l'uomo non il maschio l'uomo come specie dominante ed è quello che ha fatto leggi ha scritto libri ha creato i libri di storia ha gestito le religioni ha creato un mondo a sua immagine e somiglianza dove ovviamente il nostro ruolo era un ruolo subalterno noi eravamo e siamo in staff siamo eternamente in staff a supporto e in celebrazione dell'ascesa del leadership maschile allora io della religione non ne parlerò ma pensate alle leggi lo sapete che soltanto nel 1956 la corte di cassazione ha eliminato lo ius corrigendi voi siete troppo giovani sapete cos'è lo ius corrigendi lo ius corrigendi negli anni 60 insomma era il diritto ius diritto dell'uomo di picchiare la donna il diritto di picchiare la donna che non voleva uniformarsi al suo volere cioè la donna che si ribellava donna poteva essere anche figlia lo ius corrigendi significa che il potere correttivo del pater familias era gestito dall'uomo ora se io vi dico che nel 60 è stato eliminato secondo voi dopo quanti anni quella cultura ha potuto veramente abbandonare l'uomo cresceva con interiorizzava un diritto di correggere i comportamenti ribelli chiaro? delitto d'onore nel 1981 il matrimonio riparatore sapete cos'è il matrimonio riparatore? 1981 il caso di vabbè in realtà ce n'è uno ancora più antico del 39 sempre in Sicilia quindi stiamo parlando di una legge le leggi la costruzione delle leggi scritte da uomini tutte le leggi sono scritte da uomini chiaramente la legge vi racconta una cultura quello che veniva normato stiamo parlando degli anni 80 il diritto di famiglia è del 75 che riconosceva a entrambi i genitori il diritto di orientare la famiglia prima era solo l'uomo quindi chiaro che siamo ancora figlie di una cultura dove comunque queste sono pubblicità degli anni 50 degli anni 60 degli anni 90 è chiaro che è molto divertente anche leggerle ho preso le più antiche ma ce ne sono così tante perché quelle recenti sono solo molto volgari e strumentalizzano l'oggettivizzazione del corpo della donna però diciamo che è chiaro che noi siamo ancora dentro tutta quella cultura pensate ai social media pensate a tutto quello che succede quindi la cultura della sopraffazione passa anche però e qui ho un messaggio perché sento tanto parlare di polemiche sul maschile sovraesteso il linguaggio questo maschile sovraesteso voi cosa ne pensate che dibattito che dibattito ci sono cioè vi dovete dovete diventare opinionated ognuno di voi ha il compito e la responsabilità di prendere delle opinioni le mie non sto scherzando però di farvi delle opinioni sulle cose non è vero che noi non dobbiamo farci delle opinioni dovete diventare tutte opinionated riguardo una serie di temi che vi riguardano il maschile sovraesteso la lingua che ci ha reso che ci ha cancellato la servitù grammaticale non si dice ah ma come suona male ingegnere come suona male quando sento di ah direttrice è perché maestra era bello infermiera è bello non è la stessa cosa siamo solo non abituati no ingegnera è uguale a maestra ve l'assicuro avvocata è uguale a infermiera è solo che ci sono da prima anzi veramente se volete avvocata lo diceva anche in un testo latino quindi gli stereotipi linguistici attenzione non ci cadiamo non cadiamo noi stesse in delle frasi che ripetiamo non fare la femminuccia non vabbè stai zitta perché sono proprio scema no le mie coci guarda Laura sono una capra io sento sento parlare a noi stesse in una modalità che dobbiamo dobbiamo riflettere anche su una serie di stereotipi non capisco niente in matematica sono sempre stata una capra eccetera 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 allora con valore D noi abbiamo scritto una bellissima policy sulle molestie nei luoghi di lavoro perché le aziende devono fare molto possono fare molto e stanno facendo molto ma c'è qualcosa che possiamo fare noi come dipendenti come colleghe quindi questa è la policy la trovate anche nel sito di valore D trovate tanto materiale semmai vi doveste vi doveste occupare di aree all'interno dell'azienda dove magari potete prendere degli spunti sono policy molto dettagliate come si fa come fa un'azienda a esprimere a cambiare la cultura e a esprimere una volontà chiara deve seguire delle procedure deve fare delle cose che noi indichiamo deve monitorare deve essere credibile quando ci sono i casi di molestie e guardate che far salire i casi di molestie e denunciati è un successo quell'1% quando io sento magari quando vado nelle aziende dicono ah Laura 0% casi vuol dire che non funziona chiaro? vuol dire che non funziona vuol dire che non c'è fiducia la fiducia c'è quando quei numeri salgono perché vuol dire che qualcuno pensa che tu te ne farai qualcosa di quella mia denuncia non cadete nell'inganno ma i lavoratori la legge e qui non c'è solo la 190 ci sono anche leggi prima sono le ultime due slide una e noi come dipendenti noi come colleghi guardate che come lavoratori noi non abbiamo soltanto il diritto a vivere in un ambiente senza molestie ma abbiamo un dovere è una responsabilità se noi assistiamo a delle molestie e non le denunciamo potremmo essere in qualche modo coinvolti in una diciamo denuncia cioè noi abbiamo il dovere di vigilare sul clima lavorativo grazie a delle leggi e al testo unico del lavoro sulla sicurezza del 2008 quindi noi ci dobbiamo tutti agire quando notiamo che c'è un collega che prende in giro che c'è qualcuno che viene vessato e che non risponde possiamo possiamo farlo e nei nostri compiti possiamo affrontarlo direttamente con la persona o procedere con i canali di segnalazione e quando succede a noi però attenzione io qui riporto soltanto le cose importanti a cui potreste non pensare esprimere il dissenso l'abbiamo detto è importantissimo perché fa parte del primo motivo per cui uno dice sì questa è una molestia indesiderato deve essere chiaro raccogliete memorie scritte memorie scritte cioè oggi 9 novembre mi ha portato dei cioccolatini sulla scrivania ma io gli ho detto che non li volevo c'era presente anche la mia collega Tizia poi dopo una settimana un altro episodio e ve lo ricordate scrivete perché la cosa importante è che un domani se vi dovesse servire voi non andate lì dicendo ah mi dava fastidio mi dava fastidio non vale ha fatto questo in questa giornata c'era questa persona che può dire la stessa cosa poi i comportamenti ripetuti quindi memorie scritte e cercate di parlarne di condividere anche con delle colleghe con delle persone che magari conoscono il tema e utilizzate ovviamente i canali di segnalazione quindi in qualunque realtà vi trovate dovete imparare a conoscere chi sono le persone responsabili delle polisi quali sono i canali di segnalazione e soprattutto ricordatevi che il cambio culturale passa anche proprio da quello che noi ci diamo il diritto di pensare allora io ho finito mi interessava darvi soltanto qualche spunto spero vi sia stato un pochino utile se ci sono domande sono qua e se no andate a opinionarvi in qualche altro seminario avete delle domande? vai no nel senso che ovviamente più tempo lasci passare e più sarà difficile però considera che ci sono state anche delle giurisprudenze che hanno preso in esame delle persone che avevano lasciato il posto di lavoro e dopo tre anni ne hanno denunciato quindi nei casi estremi vale assolutamente no? si può la denuncia è sempre aperta rispetto a questi casi a seconda della gravità poi ci sono altre domande? curiosità? tutto chiaro? grazie la violenza psicologica è interessante per tutti quindi la ripeto la violenza psicologica in che categoria entra? la violenza psicologica fatta su una donna da un uomo? in genere la violenza psicologica è a tutti gli effetti una violenza subita da una donna è a tutti gli effetti una violenza se viene effettuata da un familiare di qualunque grado si rientra nella fattispecie della violenza domestica se invece viene effettuata da un conoscente rientra comunque nell'ambito delle molestie delle molestie di genere cos'è la violenza psicologica? sono tutte quelle situazioni in cui una persona viene messa nel tempo in una condizione di sentirsi minacciata impaurita sale l'ansia quindi magari le viene minata l'autostima la capacità quindi quelle persone che ci dicono ma sei zitta che sei una cretina ma non dire niente questa cosa ma non chiedere a lei che è una stupida no? sapete queste piccole piccole pilloline che ci vengono e quindi è una violenza psicologica a tutti gli effetti poi c'è la violenza economica lo sapete che il 37% delle donne in Italia non hanno un conto economico intestato quindi la violenza economica significa anche magari non essere nelle condizioni di sentirci autonome per cui sì la violenza psicologica peraltro la violenza psicologica è una delle forme più importanti è la prima forma di violenza sulle donne quindi la sua domanda era più che opportuna grazie grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti